GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI La seduta del 22 maggio Diventiamo cittadini europei Sette giorni in consiglio Il Consiglio regionale ha approvato il 22 maggio la riforma degli Ato o ambiti territoriali ottimali per la gestione di rifiuti e acqua, licenziata a larga maggioranza anche la delibera che proroga di sei mesi I lavori della Commissione Speciale di Inchiesta sulla Gestione Urbanistica L'Assemblea ha inoltre commemorato le vittime dei due tragici episodi dei giorni scorsi L'attentato di Brindisi e il terremoto in Emilia Romagna, esprimendo solidarietà ai familiari I lavori sono poi proseguiti con l'approvazione di cinque ordini del giorno GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI